bello ragazzo con il video di oggi vi faccio vedere la mia o lezioni del torino di suonore allora iniziamo a vedere video con un ciccio gamer io lo conosco perchè allora mio papà è andato a una fiera e l'ha incontrato ma io c'ho il massimo di buccio con le 100 e qualcosa allora io penso che facciamo dire cornet insieme con il portiere volante questo è il primo sconto perchè se vedete bene ce ne sono due quella con la seconda macchia quella con la seconda macchia che è bianca col portiere fermo e poi c'è quello della prima squadra col portiere che si mette e vi voglio curare ci sarà una live il 35 e per la ragazza ci sarà una live ciao 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 ciao